ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco budineb farmaceutici caber srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa a budineb confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere budineb durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa a budineb budineb a un farmaco a base del principio attivo budesonide appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glico corticoidi e commercializzato in italia dall'azienda farmaceutici caber srl budineb può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni budineb 0,5 mg barra 2 ml sosp da nebulizzare 20 contenitori 2 ml budineb 1 mg barra 2 ml sosp da nebulizzare 20 contenitori 2 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare istituto biochimico nazionale savio srl sede legale concessionario farmaceutici caber srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo budesonide gruppo terapeutico corticosteroidi forma farmaceutica sospensione indicazioni budineb sospensione da nebulizzare ha indicato nel trattamento dell'asma bronchiale budineb sospensione da nebulizzare ha anche indicato nel trattamento della laringite subglottica molto grave pseudo croup in cui ha indicato il ricovero ospedaliero posologia asma bronchiale dose iniziale il dosaggio di budineb sospensione da nebulizzare a individuale la dose iniziale dovrebbe essere bambini di età uguale o superiore a sei mesi e fino a 12 anni dose giornaliera totale di 0 25 0 5 mg nei pazienti in terapia con steroidi orali ha possibile iniziare con una dose giornaliera totale iniziale più alta per esempio 1 mg la dose più alta 2 mg al giorno deve essere considerata solo nei bambini con asma grave per periodi di limitati adulti anziani 0 5 1 mg due volte al giorno in caso di necessità la dose può essere ulteriormente aumentata nei casi in cui venisse richiesto un maggiore effetto terapeutico a possibile somministrare dosi superiori di budineb sospensione da nebulizzare infatti i rischi di effetti sistemici sono bassi se confrontati con quelli rilevabili a seguito di un trattamento in associazione con glucocortico steroidi orali dose di mantenimento la dose di mantenimento a individuale una volta ottenuti i risultati clinici desiderati la dose di mantenimento dovrebbe essere gradualmente ridotta fino alla raggiungimento della minima quantità necessaria per controllare i sintomi insorgenza dell'effetto il miglioramento del controllo dell'asma a seguito della somministrazione di budineb sospensione da nebulizzare per via inalatoria può verificarsi entro tre giorni dall'inizio del trattamento sebbene il massimo beneficio si ottenga dopo 24 settimane pazienti trattati con steroidi orali vedere anche 44 budineb sospensione da nebulizzare può consentire la sostituzione o la significativa riduzione del dosaggio di steroidi orali mantenendo il controllo dell'asma quando si inizia il trasferimento dalla terapia cortico steroidea orale a quella con budineb il paziente deve essere in una fase relativamente stabile una dose elevata di budineb viene quindi somministrata in combinazione con la dose orale precedentemente usata per circa 10 giorni dopodiché la dose di steroidi per via orale deve essere gradualmente ridotta per esempio da 2,5 mg di prednisolone o equivalente ogni mese al livello più a basso possibile in molti casi è possibile sostituire completamente lo steroide orale con budineb sospensione da nebulizzare suddivisione della dose e miscellazione budineb sospensione da nebulizzare può essere miscelato con soluzione fisiologica 0,9 per cento e con soluzioni da nebulizzazione di terbutalina salbutamolo fenoterolo acetilcisteina sodio cromoglicato o ipratropiobromuro la miscela deve essere utilizzata entro 30 minuti il contenuto del contenitore monodose può essere suddiviso per consentire un aggiustamento del dosaggio sui contenitori monodose di budineb sospensione da nebulizzare a ben visibile una linea quando il contenitore monodose ha tenuto capovolto la linea indica un volume pari a 1 ml se deve essere usato un solo ml svuotare il contenuto del contenitore monodose fino a quando la superficie del liquido raggiunga la linea indicata prima di usare il liquido rimasto agitare con cura il contenuto con movimento rotatorio tavola dei dosaggi dosaggio in mg volume di budineb sospensione da nebulizzare 0 e 25 mg barra ml 0,5 mg barra ml 0 e 25 1 ml 0,52 ml 0,75 3 ml 1 2 ml 1,5 3 ml 2 4 ml il prodotto deve essere miscelato con soluzione fisiologica 0,9 per cento fino a raggiungere il volume di 2 ml laringite subglottica nei neonati e nei bambini con laringite subglottica la dose abituale a di 2 mg di budineb sospensione da nebulizzare che possono essere dati con una somministrazione unica o con due somministrazioni da 1 mg a distanza di 30 minuti una dall'altra il dosaggio può essere ripetuto ogni 12 ore per un massimo di 36 ore o fino a miglioramento clinico istruzioni per il corretto uso di budineb sospensione da nebulizzare agitare delicatamente il contenitore monodose con un movimento rotatorio tenere il contenitore monodose in posizione verticale ed aprire ruotando l'aletta fino ad apertura del contenitore mettere l'estremità aperta del flaconcino ben dentro il serbatoio del nebulizzatore premere lentamente note sciacquare la bocca con acqua dopo ogni somministrazione al fine di ridurre la comparsa di mughetto oro faringeo se viene usata una maschera facciale bisogna assicurarsi che la maschera aderisca bene durante la nebulizzazione dopo l'uso della maschera facciale lavare il viso con acqua per prevenire le irritazioni pulizia la camera del nebulizzatore deve essere pulita dopo ogni somministrazione lavare la camera del nebulizzatore ed il boccaglio la maschera facciale in acqua calda di rubinetto usando un detergente delicato proseguire le istruzioni del produttore sciacquare bene ed asciugare la camera ricongiungendola al compressore all'inalatore il tempo di nebulizzazione e la quantità del farmaco erogata da un nebulizzatore dipendono dalla velocità di flusso del compressore e al volume di riempimento in vitro la quantità di budesonide erogata dal nebulizzatore varia tra il 30 70 per cento della dose nominale in funzione del tipo di nebulizzatore e compressore utilizzato e non tutti i nebulizzatori e compressori sono idonei per l'uso di budineb sospensione da nebulizzare per ottenere la massima erogazione di budesonide ha richiesto un compressore che garantisca un flusso da 5 a 8 litri bar amin e un volume di riempimento di 24 ml gli studi eseguiti in vivo hanno dimostrato che la dose di budesonide nebulizzata somministrata ai pazienti varia tra l'undici ed il 22 per cento della dose nominale si consiglia per i bambini l'uso di una maschera facciale perfetta tenuta e ben aderente in grado di ottimizzare la dose somministrata di buttesonide a causa della piccola quantità erogata di buttesonide i nebulizzatori ultrasonici non dovrebbero essere utilizzati per somministrare budineb sospensione da nebulizzare controindicazioni ipersensibilità a buttesonide ad uno qualsiasi degli eccipienti avvertenze speciali e precauzione di impiego budineb sospensione da nebulizzare non ha destinato al rapido miglioramento degli episodi acuti di asma per i quali a necessario utilizzare un broncodilatatore a breve durata di azione il medico vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono state osservate interazioni di buttesonide con nessun altro farmaco utilizzato nel trattamento dell'asma il metabolismo di buttesonide principalmente mediato dal chip 3 a 4 isoenzima del citocromo p 450 gli inibitori vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere budineb insieme ad altri farmaci come a euro salozofa euro a euro savi flu cox euro ai euros can acidriona a euro a euro screnozola euro a euro sb fluca capsula euro a euro sb fluca capsula soluzione uso interno a euro a euro sb fluca polvere euro sbio 1996 euro a euro il sexo max euro a euros fru con az oro euro euroSPD euro spru con azzolico da euro euro sb cod EUROSFLUCO NANZOLO BIOINDUSTRIAL.I.M.A EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO DOC GENERIC A EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO EGA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO GALENICA SENESA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO EXALA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO ICMA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO CABIA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO MILAN EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO PENSA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO RATIOFARMA EURO, A EUROSFLUCO NANZOLO SANDOZA EURO, A EUROSFLUCO NAN su una euro a eros flu con a zolo 20 va euro a erros flu cos teno la euro a eros fluke mix euro a erros fisseыми con a euro s definitions a euro a erros fluores a euro a erosugu sa euro a eros gemiflux i euro a euro si tra con a zolo doc gener нович euro a euro si tra con a zolo milan generalics ha euro a euro si tra con a zolo sandoza euro a euro si tra con a zolo te va a euro a euro si trager ma euro a euro schietto con azzola r a euro a euro schietto 9 a euro a euros keller a euro a euros le funziona euro a euros l candiola euro a euros mi con ics euro a eros macchese euro a eros nizzier Three blood la euro a eros nizzieral crema euro a eros nizzieral hampola a euro a eros n Cela�el compressa gastro resistente a euro a eros naux a fill sospensione a euro a euro sposa con anzolo a corda euro a euro sposa con anzolo a clae euro a euro sposa con anzolo e da euro a euro sposa con anzolo euro generici a euro a euro sposa con anzolo fresenius cabbia euro a euro sposa con anzolo milan farma euro a euro sposa con anzolo milan euro a euro sposa con anzolo sanduza euro a euro sposa con anzolo tv euro a euro EUROSRIFLAX EUROSPENDER 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 EAEUROSPENDER EUROSPENDER 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 EUROSPENDEREUR EUROSPENDER 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 zero dr e disa euro a euro sfori con a zolo mill revelation carima euro a euro sfori con a zolo melanè euro a euro euro sfori con a zolo sandox vareuro a euro sfori con a zolo sandosa enro a euro sforio con a zolo te va a euro euro svinka euro a euro sta mi zo la euro a euro servo una euro a euro solo dera euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere budineb durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere budine durante la gravidanza e l'allattamento i risultati emersi da ampi studi epidemiologici prospettici e dall'esperienza post marketing su scala mondiale non indicano alcun effetto avverso sulla salute del feto baraneonato con l'impiego di budesonide per via inalatoria vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari budineb sospensione da nebulizzare non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari effetti indesiderati le sperimentazioni cliniche la letteratura e l'esperienza dovuta alla commercializzazione del farmaco suggeriscono che si possano verificare le seguenti reazioni avverse le frequenze sono definite come molto comune a zero in un decimo comune vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio un sovradosaggio acuto con budineb sospensione da nebulizzare anche in dosi elevate non dovrebbe causare problemi clinici proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica altri antiasmatici inalatori glucocorticoidi codice atc r03b a 02 attività antinfiammatoria locale l'esatto meccanismo di azione dei glucocortico steroidi nel trattamento dell'asma non ha completamente noto sono probabilmente importanti l'attività antinfiammatoria proprietà farmacocinetiche assorbimento negli adulti la biodisponibilità sistemica di buttesonide dopo somministrazione della sospensione da nebulizzare attraverso un nebulizzatore jet a pari a circa il 15 per cento della dose nominale e dal 40 70 per cento dati preclinici di sicurezza i risultati degli studi di tossicità acuta subacuta e cronica dimostrano che gli effetti sistemici di buttesonide sono meno gravi o simili a quelli osservati dopo somministrazione di altri elenco degli eccipienti di sodio e dettato sodio cloruro polisorbato 80 acido citrico anidro sodio citrato acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di budineb a base di buttesonide sono body net body x budesonide sandoz budesonide teva budex a il tairneb marxide pul max a sospensione fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione ti ha aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato